Neve e ghiaccio ogni inverno rappresentano i principali pericoli per la circolazione delle auto, soprattutto su alcune strade. Per prevenire eventuali incidenti, torna puntuale l'obbligo delle ruote invernali o in alternativa delle catene a bordo per tutti i veicoli a motore, dalle automobili ai camion. L'ordinanza, comunicata dall'ANAS in Molise, anche quest'anno inizia il 15 novembre, per concludersi il prossimo 15 aprile per il rispetto della sicurezza e del codice stradale. L'obbligo delle ruote termiche sulle strade statali maggiormente a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sarà segnalato con l'apposita segnaletica. L'ANAS ha inoltre comunicato che sarà possibile controllare la situazione delle strade in tempo reale collegandosi al sito internet www.stradeanas.it, entrando nella pagina specifica dedicata al traffico. Oppure direttamente con il proprio cellulare, grazie all'applicazione denominata VAI, disponibile per tutti i smartphone di ultima generazione. L'azienda, attenta alle problematiche stradali, ha messo a disposizione un ulteriore strumento per tutti gli automobilisti, una web tv sulla quale si può accedere attraverso il sito internet www.stradeanas.tv. Inoltre ha a disposizione il numero telefonico pronto ANAS 841 148. La raccomandazione principale per evitare incidenti con neve e ghiaccio è avere massima prudenza alla guida. E intanto, se non si rispetta l'obbligo delle gomme termiche, scatta il rischio multa. Grazie! Grazie a tutti